Parco nazionale di Portofino, il TAR non concede la sospensiva per il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro la perimetrazione a tre comuni, udienza di merito fissata al prossimo 24 aprile. Possono partire i lavori di restauro alla facciata Lato Mare di Palazzo Franzoni a Lavagna danneggiata dalla Grandine dell'agosto 2022, il progetto del comune ha ottenuto il benestare della sovrintendenza. Il 3 dicembre la diocesi di Chiavari accoglierà la statua della Madonna di Lourdes, previsti i momenti di preghiera in diverse zone del territorio, tutti possono partecipare, due soste anche in ospedale. Consegnate le benemerenze del CONI Liguria, stella d'oro al merito sportivo a Claudio Scotton, medaglia d'oro al valore atletico a Cristina Francone, una serata di festa con lo sguardo a Genova, capitale europea dello sport 2024. Debutta oggi nel telegiornale di Telepace uno spazio dedicato alle previsioni meteo del fine settimana, lo curerà Marco Revello ogni venerdì. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale, altro capitolo nella complessa vicenda della Costituzione del Parco Nazionale di Portofino. Il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro l'ultima perimetrazione decisa dal Ministero dell'Ambiente a tre comuni non ha ottenuto la sospensiva. Si deciderà tutto nell'udienza di merito fissata per il 24 aprile del prossimo anno. Facciamo il punto con Andrea Capitani. Nessuna sospensiva concessa, ma un'udienza nel merito fissata in tempi ragionevolmente brevi il prossimo 24 aprile. Per il ricorso presentato contro il decreto che ha istituito il Parco Nazionale di Portofino a tre comuni, i tempi si allungano. Nessuna sospensiva concessa dunque contro il provvedimento che dovrebbe portare alla nascita del più piccolo Parco d'Italia, quello originato dalla fusione dell'area marina protetta con il Parco regionale, come avrebbero auspicato le due realtà proponenti il ricorso, l'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino e l'Associazione Verdi Ambiente. In un comunicato firmato dall'avvocato Daniele Granara, le due realtà si dicono comunque soddisfatte per l'ordinanza pronunciata dal Tar Liguria che confermerebbe come l'iter per la costituzione di un parco adeguato prosegua sollecitamente. Soddisfatti per l'esito temporaneo della vicenda anche il Ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria. Il Tribunale amministrativo Ligure, si legge nella sentenza pubblicata, ha rilevato che le esigenze cautelari espresse dalle ricorrenti possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso e non dunque con la sospensione del decreto. Trattazione che sarà appunto affrontata il prossimo 24 aprile. A comparire in aula però non saranno solo i ricorrenti e le relative controparti citati in giudizio, Ministero, Regione e Associazioni. Il Tribunale infatti ha ritenuto necessario anche in ragione della pendenza del contenzioso avverso il decreto del Ministro della Transazione Ecologica del 6 agosto del 2021 e di quanto statuito dal Consiglio di Stato, disporre l'integrazione del contraddittorio anche a tutti i comuni ricadenti nella vecchia perimetrazione A11, quella definita da Ispra. Sarà ascoltata la voce perciò anche degli esclusi dal Parco A3. Alcuni di loro hanno già espresso la loro contrarietà ad essere inseriti nel Parco Nazionale, posizione ribadita presentandosi in giudizio contro il ricorso delle associazioni ambientaliste. Oltre a Portofino e Santa Margherita Ligure, questi sono i comuni di Recco, Avegno, Tribunia, Cicagna e Camogli. Ma saranno ascoltati anche quelli che invece nel Parco Nazionale ci vorrebbero rientrare, ovvero Chiavari, Rapallo, Correglia Ligure e Zoagli. A chiudere l'elenco dei soggetti che il 24 aprile in aula saranno chiamati a dire a loro, nell'audienza di merito, anche i componenti del Comitato di Gestione Provvisorio, quella realtà che aveva avuto modo di portare avanti il lavoro di definizione delle aree di salvaguardia prima di essere fermato dai numerosi ricorsi alla giustizia che fino ad oggi hanno caratterizzato la pur breve vita del Parco Nazionale di Portofino. Cambiamo tema, possono finalmente partire i lavori di restauro alla facciata a lato sud di Palazzo Franzoni a Lavagna. L'edificio, sede del comune, era stato danneggiato, lo ricorderete, dalla grandinata dell'agosto 2022 e aspettava il via libera da parte della sovrintendenza che appunto è arrivato a disposizione un finanziamento di 220 mila euro. Ancora Andrea Capitani. L'appalto è stato affidato, a breve inizierà l'intervento che permetterà di rimuovere le impalcature presenti ormai da più di 13 mesi. Per il restauro della facciata a lato mare di Palazzo Comunale a Lavagna è arrivato l'atteso via libera della sovrintendenza che ha approvato il progetto presentato dal comune. Nei prossimi giorni verrà aperto il cantiere che dovrebbe concludersi entro il mese di marzo del 2024 per una spesa preventivata dei 220 mila euro. E' dai giorni successivi al 18 agosto del 2022 che i ponteggi nascondono la parete danneggiata dal vento e dalla grandine. I chicchi avevano colpito il tiguglio orientale provocando tantissimi danni a stabilimenti balneari, auto, vegetazione e facciate. Tra queste ultime anche quella a lato sud di Palazzo Franzoni, sede del comune, provocando il distacco delle lastre di gronda, il danneggiamento dei terrazzi e delle persiane in legno. Adesso tutti questi beni verranno recuperati. Un edificio storico tutelato dalla sovrintendenza e che era subito stato messo in sicurezza. Nei mesi successivi era stato elaborato il progetto di ristrutturazione per il quale adesso finalmente è arrivato il via libera dalle belle arti. Finalmente, è proprio il caso di dirlo, è dal 18 agosto del 2022 quando c'è stato il fortunale che ha colpito il nostro territorio, che abbiamo dovuto montare le impalcature sul nostro palazzo che ovviamente ne deturpano la vista. Abbiamo avviato immediatamente il procedimento presso la sovrintendenza e proprio dei giorni scorsi è l'ottenimento della prima di una serie di autorizzazioni che ci consentono di poter partire con i lavori. Lavori per cui abbiamo già i fondi, abbiamo già stanziato le risorse necessarie, per cui non appena si conclude, finalmente è il caso di ripetersi però, toglieremo queste impalcature e doneremo alla vista uno dei più bei palazzi di tutto il territorio. A proposito di condizioni meteo, oggi avviso per Mareggiata, che ancora una volta interessa le coste del Levante e Ligure, come vedete anche dalle immagini della webcam. E rimaniamo in qualche modo in tema, perché oggi una corretta pianificazione di protezione civile è quanto mai importante per affrontare al meglio i rischi idrogeologici. Eppure non tutti i comuni conoscono il piano regionale o non lo rendono disponibile ai suoi abitanti. Ne abbiamo parlato con Fondazione Cima, sentiamo. Cosa fare in caso di allerta? La mia casa, il mio quartiere, sono sicuri? Domande attuali quando si affronta un rischio legato al meteo e non solo. Le risposte ai normali quesiti sono di solito contenute nel piano regionale di protezione civile. La Liguria al suo, ma non sempre i comuni lo conoscono o lo rendono fruibile ai residenti. Ma allora è come se queste linee guida non esistessero. Fondazione Cima e Regione collaborano da tempo per sensibilizzare di più sindaci e tecnici comunali. È necessario tantissimo perché ci siamo resi conto che è in effetti un ottimo strumento proprio perché partecipare a alcuni aspetti del piano consente ai cittadini di conoscere meglio quegli aspetti. Ed è importante sapere se la propria abitazione è in un'area, tanto per intenderci, diciamo così, a rischio. Ci sono diverse tipologie di rischio, ma è importante per il cittadino rendersi conto di questi aspetti. Tra i comuni i risultati virtuosi, con la messa in campo di studi o di vere e proprie esercitazioni, ci sono Genova e Chiavari, esperienze e modello per gli altri comuni della Liguria. Una fatta dal Comune di Genova per appunto un sistema di monitoraggio molto avanzato, molto dettagliato sull'ambito di quelli che sono i bacini che interessano la città e su come loro hanno organizzato il presidio idraulico, sulle modalità di attivazione e sulle modalità di presidio. Un altro esempio assolutamente significativo è stato portato avanti dal Comune di Chiavari che ha sviluppato uno studio, una metodologia per occuparsi delle persone fragili sul proprio territorio, andando ad approfondire, identificare quali sono le situazioni più evidenti e andando per queste situazioni a trovare delle soluzioni dirette e operative per poter aiutare appunto quel tipo di persone. Nei giorni scorsi la Tigugliana ha lanciato l'allarme per la possibile chiusura del convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure e il rischio ipotetico di vendita della struttura a fini immobiliari e speculativi. L'associazione, insieme ad altre realtà cittadine, scriverà una lettera ai religiosi per provare a convincerli a rimanere. La preoccupazione è stata lanciata sulla base di voci che circolavano da mesi in città, spiega l'associazione, ma che vengono smentite dal sindaco. Paolo Donadoni è infatti intervenuto spiegando che una speculazione edilizia sarebbe materialmente impossibile, in quanto oggi qualunque modifica la destinazione d'uso dello storico edificio, considerato di interesse comune, dovrebbe essere sottoposta a variante urbanistica da approvarsi con il consenso del Consiglio Comunale. Siamo all'informazione religiosa. Il 3 dicembre alle 20.45 in Cattedrale a Chiavari il Vescovo accoglierà la statua della Madonna di Lourdes. È l'immagine che ogni sera percorre le zone del Santuario Mariano nella cosiddetta processione au flambeau. Unitalsi ha organizzato molti momenti di preghiera sul nostro territorio. Sentiamo. In che occasione avviene questa peregrinazio marie così particolare? Quest'anno sono i 120 anni dalla fondazione della nostra associazione. Unitalsi infatti è nata 120 anni fa e in questi 120 anni ha sempre portato avanti i pellegrinaggi. I pellegrinaggi all'Urd, dove noi abbiamo il nostro cuore e poi in tutti i santuari mariani, nazionali e internazionali. Qual è la statua che viene portata in questa peregrinanza? La statua arriva proprio dal santuario ed è la statua che viene portata tutte le sere in processione al flambeau. La famosa processione che si svolge alle 21 nell'esplanade che è la piazza di fronte al santuario. Qual è il percorso che sta effettuando in questo peregrinaggio, Maria? La statua è partita dal santuario di Lourdes a fine ottobre ed è arrivata nella sezione campana. Piano piano sta risalendo tutta l'Italia. Adesso si trova in Veneto, poi in Lombardia, farà Piemonte e arriverà poi in Liguria. I primi di dicembre arriverà in Liguria, nella nostra diocesi, nella diocesi di Chiavari, precisamente domenica 3 dicembre. Verrà colta alle 20.45 nella Cattedrale di Chiavari dal nostro Vescovo diocesano e ci sarà poi lì un momento di preghiera. Da quella serata partirà poi questa peregrinazio di un giorno nella nostra diocesi. Toccheremo i punti principali, diciamo, significativi della nostra diocesi, il carcere, l'ospedale, una casa di riposo e avremo anche momenti di preghiera comunitaria a Chiavari, a Rapallo, a Casarza Ligure, a Cicagna e a Sestri Levante. Qual è l'importanza di questo evento, di essere visitati da Maria? Noi diciamo sempre che a Lourdes abbiamo il nostro cuore, alla grotta noi ci troviamo a casa. Non sempre però si può andare a Lourdes e questa volta invece che andare noi da lei è lei che viene a visitare il nostro territorio. Un pezzo di Lourdes tra noi. All'inizio del nuovo anno pastorale il Vescovo di Chiavari conferisce il mandato ai catechisti della diocesi. Appuntamento questa sera alle 20.30 in Cattedrale. Il tema della serata è Getta l'ancora e pesca. Per i partecipanti poco prima si terrà un momento conviviale alle 19 nel cortile del seminario. Sono state consegnate ieri sera a Genova le benemerenze del CONI Liguria. Stella d'oro al merito sportivo a Claudio Scotton, medaglia d'oro al valore atletico, a Cristina Francone, campionessa mondiale di immersione in apnea con attrezzi. Una serata di festa con lo sguardo a Genova, capitale europea dello sport 2024. Le interviste. Atleti, allenatori, dirigenti, le società e i nomi che hanno fatto grande lo sport Ligure sono stati premiati a Genova durante la festa del CONI, consegnate decine di benemerenze, le tradizionali stelle e medaglie al merito sportivo. Vivere improntate al valore dello sport soprattutto per il tessuto cittadino dei più giovani vuol dire crescere in maniera sana, ispirate alla perseveranza, al senso di sacrificio, al divertimento, al senso di unione e anche alla correttezza, al fair play. La stella d'oro è andata Claudio Scotton una vita nella ginnastica con una parentesi nella vela, oggi dirigente a servizio dei più giovani. Le difficoltà che incontrano gli atleti i dirigenti li devono conoscere. Se prima sono stati atleti verosimilmente sanno a cosa vanno incontro quotidianamente chi difende i nostri colori e quindi onestamente credo che sia un passaggio importante, utile e doveroso prima di fare il dirigente essere stato atleta agonista. La serata del CONI ospitata al Parc Tennis Club ha dato un assaggio di quello che sarà Genova capitale europea dello sport 2024 e della Liguria regione europea dello sport 2025. Si è fatto un grande gioco di squadra con le federazioni, con il comune, con gli enti per avere anche degli eventi di grande importanza. Prova ne sia che il calcio porta per la prima volta nella storia il trofeo delle regioni dal 22 al 29 di marzo. Altri eventi importanti arriveranno. Genova e Liguria saranno protagoniste a livello nazionale e internazionale dello sport. Il Genova 2024 che ovviamente viene realizzato grazie alle società sportive e alle federazioni che devo dire si sono molto attivate per portare campionati mondiali, europei, italiani. Tutto quello che si poteva portare a Genova ci potrà essere nel 2024. Venite a trovarci a Genova lo dico all'Italia e al mondo intero. Linea ora da Rassegna Stampa ci ritroviamo subito dopo. La vita vale sempre questo è il titolo scelto da avvenire per presentare il messaggio per la giornata mondiale della vita il prossimo 4 febbraio 2024 la CEI dice non può essere negata anche quando segnata dai limiti è un dono da accogliere c'è anche l'editoriale di Giuseppe Anzani vite fragile da custodire vindi e tutte le ferite ingiuste poi qua siamo a Gaza nella striscia di Gaza con ridoie tregue di ore CIA Mossad e Mossad trattano sugli ostaggi e ancora dottrina della fede trans, gay e figli una scelta pastorale di accoglienza ma non è un liberi tutti l'accordo con Tirana Fratelli d'Italia dice non andrà alle camere parla anche la sindaca albanese di Pieve di Cadore Sindy Manusci che dice intesa costosa come un autogrill viaggio a Perdas de Fogu in Sardegna svelati i segreti dei centenari sardi e in poi ancora Milano e Roma arrestato jedista vastiche sui muri e il NEC il cantante Filippo Neviani dice la mia fede è rinata dialogando coi sacerdoti percorsi religiosi andiamo invece sul secolo XIX nostaggi il no di Netanyahu e ancora sanità il primo sì al piano Ligure pronto soccorso rete confermata centrali 118 da 5 a 3 Genova accorpamenti per i reparti maternità ex Silva altri 2 miliardi promessi dallo Stato i sindacati dicono sciopero l'intesa segreta prevede esclusivamente i fondi pubblici e ancora della prima pagina del secolo agguato a Madrid il fondatore di Vox ferito da un sicario sangue sulla Spagna che ritrova anche Sanchez e poi Genova la Liguria in generale gallerie viadotti Liguri pericolosi ex manager dell'Aspia giudizio nuovo processo con 47 imputati e ancora i comuni non aumentano la tassa di soggiorno e appunto milioni di euro nessun ritocco in vista solo Santa Margherita valuta un possibile aumento in vista del giubileo cioè del 2025 la mappa del costo aggiuntivo applicato dalle strutture ricettive stella per stella andiamo a Sestri Levanti dove c'è il dibattito sulla Baia del Silenzio ticket categorie favorevoli ma servono più servizi centro-sinistra critico l'accesso va lasciato libero e torniamo a Santa Margherita Ligure anche Brunetti in campo alternativa per la città sarà candidata della lista che raccoglie l'eredità di Claudio Marsano Fabiola Brunetti dice mi batterò per il decoro e contro l'incuria e il degrato che vediamo ogni giorno dopo questo annuncio e quello di Caversazio si attende ora quello di Emanuele Cozio per la maggioranza andiamo ora in redazione dove c'è Andrea Capitani a te Andrea grazie Maurizio buongiorno a tutti la cronaca ancora un'aggressione a personale sanitario all'ospedale di Lavagna l'ultimo episodio risale la scorsore quando un baregliere è stato aggredito verbalmente e fisicamente da una donna di 50 anni che stava per essere sottoposta ad un esame radiografico a seguito di accertamenti i carabinieri giunti sul posto hanno denunciato la donna già conosciuta le forze dell'ordine per violenza minaccia pubblico ufficiale e lesioni è tutto a terra di lì disagi in vista per la prossima settimana nel pubblico venerdì infatti si terrà lo sciopero nazionale proclamato da CGL e Will contro la manovra di bilancio uno sciopero di otto ore oppure dell'intero turno che interesserà i dipendenti pubblici la sanità i trasporti i settori scuola e università e quelli soggetti alla legge 146 sui servizi essenziali la manifestazione provinciale si terrà a Genova con concentramento alle ore 9 al terminal traghetti da dove partirà il corteo per le vie del centro città ora uno sguardo alla nostra programmazione perché debutta oggi nel nostro telegiornale uno spazio dedicato alle previsioni meteo del fine settimana a curarlo è il nostro Marco Revello a cui do la linea a te Marco sì ciao Maurizio grazie allora ci aspetta un fine settimana molto molto variabile pensate che sono 5 i fine settimana in cui abbiamo avuto qua in Liguria il passaggio di perturbazione quindi tempo tempo brutto tempo anche particolarmente perturbato abbiamo visto le grandi mareggiate della settimana scorsa oppure le precipitazioni piuttosto intense questo non sarà un weekend con questo stile sarà un fine settimana molto variabile oggi innanzitutto nel pomeriggio le nuvole che ancora si sono attardate sul Levante dovrebbero come vedete piano piano lasciarci lasciare lo spazio quindi a cieli più sereni nel corso del pomeriggio soprattutto al Levante della nostra regione e oggi i venti si stanno calmando però ancora a largo sono forti e meridionali da sud ovest mentre invece nel pomeriggio appunto avremo un indebolimento dei venti lungo le coste anche se comunque ancora il mare non è calmo e lo vediamo non è paragonabile alle scorse settimane domani cos'è domani è l'11 di novembre l'estate di San Martino e in effetti la situazione meteorologica per la giornata di domani secondo la Limet è una giornata è appunto una condizione ideale cioè di cielo sereno poco nuvoloso quindi avremo queste schiarite che comprenderanno un po' tutta la nostra regione con residui e nuvole soltanto nella parte più a Levante in serata ci sarà la comparsa di velature soprattutto a ponente della regione e poi nel corso della notte le cose potrebbero cambiare però diamo anche per la giornata di domani la possibilità di venti forti a largo mentre invece saranno deboli variabili meridionali lungo le riviere per quanto riguarda il mare rimarrà ancora molto mosso localmente agitato a largo e sull'estremo Levante non abbiamo ancora parlato di temperature le temperature avete visto sono tornate avete sentito anzi sono tornate diciamo quelle regolari quelle normali per il periodo in cui siamo quindi siamo a metà novembre e sono più o meno le temperature medie stagionali nel corso del fine settimana potrebbero ancora avere un lieve calo nella giornata di domenica perché domenica succederà qualcos'altro quindi dopo la giornata soleggiata di domani dovremmo avere condizioni nuovamente diciamo variabili perturbate perché perché passa una perturbazione che dovrebbe interessare marginalmente la nostra regione quindi l'aumento delle nuvole qualche pioggia ma non paragonabili nemmeno a quelle di ieri quindi piogge decisamente più deboli che saranno localizzate come vedete soprattutto sul centro e sul levante della nostra regione domenica la ventilazione sarà più settentrionale e le temperature come abbiamo detto subiranno un lieve calo quindi un fine settimana davvero variabile grazie Maurizio ti restituisco la linea grazie Marco noi prima di lasciarci vediamo gli appuntamenti per questo pomeriggio all'auditorium San Francesco di Chiavari c'è il salone dello studente del Tiguglio due giornate in cui le scuole secondarie di secondo grado avranno 30 minuti per presentare la loro offerta formativa ai presenti inizio alle 15.30 proseguono le lezioni dei corsi di cultura di Chiavari alle 16.15 nella sala a livellare di Via del Pino si parla di storia primo Levi il Lager le reazioni della popolazione a Savona presentazione del libro di Giorgio Santi Federico Zeri e Oscar Saccaroni intitolato il pittore della famiglia dei poeti alle 16.30 nella sala rossa del municipio l'ammiraglio Roberto Cervino tiene la conferenza la determinazione delle posizioni in mare alle 17 a Palazzo Fasce di Sestri Levante a Palazzo Ducale di Genova Emanuele Bacigalupo presenta il libro temendo i corsari barbareschi alle ore 17 l'evento fa parte dei venerdì a Paxo di accompagna a Uella Bricchiava inizia il nuovo ciclo di appuntamenti talk and drink alle 18 si parla di cyber security con Davide Sarti e Samantha Cosentino che presentano il libro crimini informatici la consapevolezza come il prima difesa segue aperitivo al circolo golf e tennis di Rapallo c'è una serata dedicata alla storia della disciplina inizio alle 18 saranno presenti i giocatori delle squadre agonistiche del circolo e le autorità del territorio nella chiesa dei santi Giovanni Battista e Bono a Recco c'è il concerto in memoria dei caduti a cura della filarmonica Gioacchino Rossini inizio alle ore 21 al circolo al cerchidea di Santa Margherita Ligure c'è il concerto della band di Garage Rock il Senato inizio alle ore 22 bene è tutto per questa edizione del telegiornale ci ritroviamo in diretta questa sera alle 19.15 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito